Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video dove cercherò di darvi qualche informazione su quello che potrebbe arrivare sulla nuova Model Y, codice progetto Juniper. Tutte notizie ragazzi che non sono state confermate, perché tanto come al solito Tesla non conferma mai nulla. Notizie attendibili, poco attendibili. Poi alla fine vi darò un mio parere personale su quello che sicuramente al 90% ci possiamo aspettare come batterie e motori nuovi sulla Model Y che poi sicuramente ritroveremo anche sulla Model 3 Highland. Prima di partire con il video voglio parlare dell'attuale Model Y delle due batterie che ha disponibili in commercio al momento attuale. Principalmente ragazzi andremo a prendere in considerazione la Model Y RVD, perché è quella più comprata e secondo me non è male come versione d'ingresso, anche se io personalmente prenderei la versione a doppio motore long range. Per chi volesse sapere più informazioni chi è che fornisce le batterie a Tesla, ragazzi vi lascio in descrizione o nella i in alto a destra il video dove vi spiego tutti i fornitori di Tesla. Oggigiorno ragazzi ci sono due fornitori che forniscono le batterie per la versione RVD della Model Y. In specifico c'è Kattel e BYD. Infatti BYD fornisce a Tesla le batterie nella fabbrica di Berlino, quella in Europa. Queste batterie sono montate da maggio 2023, quindi abbiamo già un anno e passa. Vi voglio dare qualche info, la capacità delle batterie e in più vi voglio dare una supposizione su quanto pesano le celle, cioè la batteria quanto pesa della versione Model Y RVD. Partiamo con Kattel. Kattel ragazzi è stato il primo produttore a fornire batterie LFP per Tesla in generale. e sono state equipaggiate su Model Y e Model 3, sempre sulla trazione solo posteriore. Kattel ragazzi ha una batteria lorda da 60,5-60,8 kWh. Invece i netti sono 57,6-57,7 ma non è quello che ci cambia. Basta sapere che sono 57,5 kWh netti, quelli utilizzabili. Questa batteria Kattel ha la densità energetica di 165 Watt al kg. Siccome sappiamo che i lordi girano attorno ai 60,6-60,7, però io prenderò in considerazione 60,5 per fare cifra tonda, 60,5 kWh, avendo la capacità lorda e anche la densità energetica, riusciamo a calcolare il peso delle celle. Si tratta di celle prismatiche, non cilindriche, quelle classiche cilindriche che possiamo vedere negli orologi o in generale dappertutto. Sono prismatiche, quindi rettangolari. Quindi la batteria Kattel ha un peso di all'incirca 367 kg, solo di batterie, al di fuori della scocca e tutto quanto. Poi quello c'è da aggiungerlo dopo. Invece da maggio 2023 BYD, che fornisce le sue BYD Blade Battery, vi dico che quelle BYD Blade Battery sono lunghe 90 cm, quindi da un lato all'altro della macchina. E da quello che si è scoperto, dovrebbe avere una capacità lorda di all'incirca 65 kWh e una capacità netta di 59,5 kWh. E questa batteria BYD ha una densità energetica attorno ai 166 Wh al kg. Quindi ha sempre solo di batterie, quindi di celle, ha un peso di attorno ai 380 kg. Perché vi sto dando questi dettagli? Ve lo dirò in fondo al video. Queste batterie ragazzi sono LFP, quindi sappiamo benissimo, soffrono tanto il freddo e posso dire che soffrono anche un pochino il caldo, perché questi giorni ci sono quasi 40 gradi e il compressore sta facendo qualche ora di straordinario quando si va in giro. Oppure quando si ricarica in modo fast. Adesso però qualcuno mi potrebbe chiedere, ma come faccio a capire che batteria ho montata sulla mia Model Y RVD? Ragazzi, molto semplice. Prendete il libretto della circolazione e dovete cercare alla voce kWh di potenza, dove c'è l'omologazione di 90 kWh, si tratta di batteria BYD. Invece dove c'è l'omologazione da 88 kWh, si tratta di batteria Cuttle. Vedete questo dettaglio e subito capite di che batteria si tratta. Queste due batterie si differenziano anche per non tanto la potenza di picco in ricarica, perché entrambe circa toccano i 175 kWh, ma e per quanto tempo mantiene quella ricarica, cioè la curva di ricarica ragazzi. La curva di ricarica sulle BYD è impressionante. In più la Model Y RVD di produzione tedesca ha anche un motore al posteriore un po' più aggiornato, un po' più recente, ma comunque si tratta dello stesso motore che è montato sulle Cuttle, semplicemente che è stato un pochino aggiornato e adattato al voltaggio delle batterie BYD, siccome hanno un voltaggio poco più alto. Ragazzi, io vi ho dato adesso delle specifiche attuali. Ricordatevi i pesi delle batterie. Adesso ragazzi facciamo delle supposizioni su quello che ci possiamo aspettare sulla Model Y Juniper, sia RVD sia Long Range o addirittura sulla Performance ragazzi. Vi ricordo stesse batterie che sicuramente Tesla aggiornerà sulla Model 3, perché Tesla non fa come gli altri produttori che differenzia 20 batterie per 5 macchine. No! Cosa ci possiamo aspettare sulla Model Y Juniper? Sia RVD sia Long Range, come ho detto. Prima supposizione. Questa è recente, già qualche YouTuber più famoso. Ci siamo capiti? Ne ha parlato. Ed è quella di 95 kWh lordi, quindi di 90 kWh netti. E questa batteria dovrebbe essere la stessa che è montata sulla Model S Long Range, quindi delle celle 1865 fornite da Panasonic e che hanno un costo non indifferente. È una batteria molto prestante, perché è montata sulla Plaid addirittura. Questa batteria secondo me ragazzi è poco verosimile che arrivi sulla Model Y Juniper, però dopo vi dirò il motivo. Seconda possibilità, le 4680 ragazzi. Le attuali 4680 al momento attuale vengono installate solo sul Cybertruck, con tecnologia a 800 volt ragazzi, con potenza di ricarica picco massimo di 320-330 kW in assorbimento. Questo è molto probabile, perché nel recente Tesla è riuscita a mettere il dry cathode, il catodo a secco. Quindi non c'è più il catodo, diciamo, con i liquidi. Non entro in spiegazione delle batterie, perché non è il mio campo. E mi devo ancora informare. Adottando questo dry cathode, Tesla è riuscita a ridurre i costi fino massimo di 30%. Tutto questo perché la linea di assemblaggio di queste batterie cilindriche 4680 è stata completamente ridotta. Oltre a questo è stata aumentata la densità energetica. Passando all'ultima supposizione, e cioè ritornare agli stessi produttori, cioè BYD e Cutler. Lo sappiamo, questi due produttori sono leader nella produzione di batterie LFP. Nelle due precedenti supposizioni si tratta di batterie nickel-cobalto-manganese o nickel-cobalto-aluminium. Ok? Sono diverse da LFP. Questa terza opzione qualcuno addirittura la dà per scontata, che saranno montate sia sulla long range, sia sulla RWD, come ovvio che sia. Tutto questo perché BYD nei recenti mesi, anzi recenti anni, ha tirato fuori la generazione 2 delle BYD Blade, che hanno una densità energetica del 20% in più, che si arriva attorno ai 200 wattora al chilo. Cutler, invece, è da due anni che ha presentato la batteria M3P, non Model 3 Performance, M3P, e dovrebbe avere una densità energetica del 26% superiore alle vecchie Cutler, cioè a questa Model 3 RWD, alla Model Y RWD attuale. Il 26% l'andrebbe a portare attorno ai 205 wattora al chilo, o 210 wattora al chilogrammo. È impressionante in confronto al vecchio. Oltre a questo, ragazzi, queste batterie LFP, sia BYD sia Cutler, sono state migliorate in modo impressionante nella funzione quando fa freddo. Tant'è che Cutler, con la sua M3P, dichiara che a meno 10 gradi Celsius, la batteria impiega 30 minuti per effettuare una ricarica dal 10 all'80. Se invece prendiamo in considerazione a temperature normali o calde, ho visto competitor che già montano queste batterie, impiegano 14 minuti, che è impressionante. Tutto questo perché riescono a mantenere una curva di ricarica molto alta e stabile. La stessa cosa vale delle BYD di seconda generazione Blade. Vi ho dato prima il peso delle attuale. Attualmente Cutler 367 e BYD 380 kg. Pensiamo che Tesla decida di non aumentare la dimensione del pacco batterie, ma decida di abbassare il peso della macchina. Sulle Cutler scenderemo di quasi 100 kg, quindi peserebbero 270 kg solo di batterie. Per quanto riguarda BYD, togliendo i 380 kg il 20%, si arriva sui 300 kg. Sempre e comunque rimanendo con le stesse capacità. Adesso ognuno si può fare il calcolo suo al contrario. Se Tesla decidesse di aumentare il pacco batterie e mantenere lo stesso peso delle sue vetture, perché lo può fare tranquillamente. Però secondo me aumentare la capacità dei suoi pacchi batterie, sì lo può fare. Sull'RVD se la porta già a 65 kWh netti va bene. Però io, se fossi in Tesla, siccome attualmente le sue vetture non pesano poco e non pesano neanche molto, sono le vetture che pesano meno tra le elettriche, io valuterei di scendere ancora con il peso e mantenere la stessa dimensione delle batterie, sia su Model 3 Island, sia su Model Y Juniper. Sulla Long Range, invece, si potrebbe valutare di usare sempre una LFP. Di adottare la batteria della Model S Long Range non succederà, perché in primis Tesla non sta sviluppando quella tecnologia, la sta sviluppando Panasonic. Due, non riuscirebbe con la produzione, perché Model 3 e Model Y sono le sue vetture più vendute. Per fornire quelle batterie vuol dire che devi fare una produzione quadrupla, se non anche 10 volte in più, in confronto a Model S e Model X. Perché vi ricordo che l'anno scorso, 2023, Model Y è stata la vettura più venduta nel mondo. Ecco perché non vedremo assolutamente quel tipo di batteria sulla Model 3 o sulla Model Y. Island e Juniper. Tirando le conclusioni, ragazzi, mi aspetto. Design nuovo. Non l'ho tratto perché su YouTube Italia ormai tutti hanno trattato solo del design, altro non hanno detto niente. Spero di trovare principalmente le LFP, sia sulla Long Range, sia sulle RVD. RVD è sicuro. Non si sa sulla Long Range. Per quanto riguarda i motori, spero di trovare il motore nuovo, installato sulla Model 3 Performance Island. Nella versione depotenziata perché è molto, molto efficiente, ragazzi. È un motore perfetto. Altri motori, secondo me, Tesla al massimo potrebbe sviluppare qualcosa di più, ancora più spinto, ma non si sa nulla. Questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'estetica. Non l'ho trattata, ma ragazzi, avete visto già gli altri che l'hanno trattata. Prima di concludere, ragazzi, su qualche immagine che è stata spottata, qualcuno ha detto «Eh, ho visto la telecamera anteriore che scende dal paraurte anteriore nella parte dove c'è la bocca dei radiatori». Io spero tanto che ci sia, perché se ci sarà sulla Model Y, vuol dire che verrà introdotta anche sulla Model 3 Island per i futuri acquirenti. Attualmente il Tesla Vision, il sistema di parcheggio, funziona molto bene. Mi affido perfettamente al Tesla Vision? No. Ma funziona. Funziona in confronto a tre mesi fa. Ditemi la vostra, ragazzi, sia delle batterie, sia dei motori, sia dell'estetica. Grazie a tutti per la visualizzazione. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, se vi è piaciuto. Nella descrizione c'è il gruppo Telegram dove potete scrivere e possiamo parlare anche di questa cosa qua, della Model Y. Grazie a tutti. Ciao, al prossimo video.